c'era una volta tanto tempo fa è così che iniziano le favole no insomma tu hai pensato che ne stessi per raccontare una una di quelle belle favole che ci raccontavano da bambini magari mamma e papà la sera sul letto e bastava quella voce melodiosa per cullarti tra le braccia di morfeo noi tu non avresti mai pensato che dietro quella voce si cerassero problemi e preoccupazioni no no era impensabile a quell'età vero poi gli anni passano mesi giorni secondi e alla fine arriva un momento in cui tu in cui in cui noi diventiamo quella singola voce e così le riascoltiamo no che bocca grande che hai a mezzanotte devi essere a casa e ci risintonizziamo su quella voce perché in fondo poi ti accorgi che le favole sono l'anello di congiunzione tra l'umanità tra adulti e bambini perché le favole sono la cosa più bella che ci possa essere ci uniscono